Michele Gianella Revisore Revisore Avete mai avuto la sensazione che il tempo scorra tra le dita, come dei granelli di sabbia che scendono dall'alto? Bene, questo è il tempo che viviamo, è il tempo del tempo veloce. Le settimane durano un giorno, i giorni solo qualche ora, le ore pochi minuti. Le nostre giornate corrono mentre noi incontriamo persone, rispondiamo alle mail, mandiamo messaggi, WeChat, Whatsapp. E poi arriviamo alla sera con quella sensazione di aver prodotto soprattutto rumore, movimento ma non spostamento, come una vecchia automobile impantanata, il motore sale di giri, il fumo degli scarichi corrompe l'aria, ma nulla si muove. Perché nel tempo del tempo veloce non conta quante cose facciamo in un giorno, non conta quanto tempo impieghiamo nel fare le cose. Tutto si confonde nella sera. Per vivere nel tempo del tempo veloce è necessario sviluppare un'abilità diversa, che non sta nel fare, ma in una dimensione alternativa. È necessario trasformare il tempo del tempo veloce nel tempo del pensiero veloce. E il pensiero veloce è innanzitutto talento. Talento innanzitutto di sapere dove siamo o dove vogliamo andare. Come Enzo Ferrari, come Ferruccio Lamborghini, come i fratelli Maserati, come la famiglia Ducati, come Giampaolo Dallara, che hanno creato valore sul territorio in cui sono cresciuti. Ma come Aleandro De Tommaso, come Horacio Pagani, che hanno trovato il paese che cercavano. E come quei ragazzi che si spostano alla ricerca del loro posto, dall'Italia, dall'Europa, dal mondo, spinti dalla passione e dal talento. Il talento è di tutti. Il talento del pensiero veloce non è di pochi, ma va educato ed allenato. E per educare questa capacità è necessario generare conoscenza a partire dalla conoscenza, piuttosto che spostarla da una parte all'altra. È necessario connettere le idee più che essere connessi. È necessario trattenere per sé la consapevolezza di un piccolo sapere più che mostrare una grande dottrina. Affrontare la complessità dei problemi più che ridurre tutto a semplicistiche soluzioni. Per generare conoscenza a partire dalla conoscenza, produrre idee, bisogna raccogliere dati, elaborarli, impiegare sensori avanzati e raffinate strategie di elaborazione, magari basate sull'intelligenza artificiale, esattamente come fanno i più evoluti sistemi di guida autonoma. Ma i nostri sensori sono gli occhi, le orecchie, le mani. Gli occhi per guardarci intorno, per vedere la connessione tra le cause, per determinare gli effetti che ne derivano. Le orecchie per raccogliere le informazioni, gli avvertimenti che provengono dall'esterno. Opinioni diverse da confrontare che ci dicono quanto solidi sono i dati che noi abbiamo. e mani capaci di sentire lo stato fisico degli oggetti, di percepire il materiale di cui sono fatti. L'intelligenza, la nostra, è tutta naturale. Per connettere le idee, bisogna mettere in relazione idee e visioni diverse del mondo, confrontarle, analizzarle, come in un sistema che distribuisce l'intelligenza. Pensiamo a quei veicoli che non hanno un'intelligenza a bordo. Ricevono le informazioni dall'esterno attraverso dei sistemi ad alta velocità di comunicazione. Le loro prestazioni sono tante più alte quanto si riduce il tempo che passa da quando ricevono il comando a quando lo mettono in atto. Ma se la comunicazione cessa, il sistema smette di funzionare. Nel tempo del pensiero veloce non ci si può fermare. bisogna avere una visione originale che ci proietti in avanti, una visione capace di guidare le scelte, una visione capace di creare gli spazi invece che limitarsi ad occuparli. Qualcuno dice che sia intuito, che sia innato. La mia esperienza mi dice che è solo connessione delle diversità, la loro sintesi. Perché il pensiero sia veloce, occorre che i meccanismi alla sua base diventino automatici. E perché siano automatici bisogna trattenere per sé la consapevolezza di un piccolo sapere pezzo per pezzo, parte per parte. La consapevolezza di ciò che avviene intorno a noi deve diventare talmente profonda da rendere perfettamente connaturata con noi stessi ciò che avviene. ed è quello che facciamo nella nostra piccola area, qui a Modena, dove testiamo veicoli di nuova generazione. Prima all'interno di un ambiente virtuale, poi all'interno di uno spazio controllato e infine lanciando i veicoli all'interno del mondo reale per migliaia di chilometri, prima che siano pronti. luoghi dove poter procedere con regolarità per accelerare gli effetti della ricerca. Lavorando insieme, insieme all'università, insieme alle istituzioni, insieme alle aziende del territorio. Perché il tempo del pensiero veloce ci chiama a lavorare insieme. Perché il pensiero sia veloce occorre che l'azione lo segua nel giusto tempo. E nella nostra società, così veloce, così veloce al cambiamento, almeno quanto la tecnologia che la pervade, non ci sono problemi semplici, non ci sono soluzioni banali. Pensiamo ad esempio alla mobilità. Come ci muoveremo fra dieci anni? Ci muoveremo fra dieci anni? Per cento anni, fino ad oggi, il modello di mobilità è stato sempre lo stesso. Sapevamo da dove venivamo e sapevamo predire dove saremmo andati. Oggi non è più così. La risposta a quello che accadrà, però, lo sappiamo, è insieme nell'economia che impatta la nostra quotidianità, nella giurisprudenza che scrive le regole, nell'ingegneria che fornisce gli strumenti, nella filosofia e nella psicologia, che ci dicono com'è il nostro stare insieme, nella medicina che condiziona la qualità della nostra vita. Nessuno di questi punti da solo è sufficiente a darci una risposta. E allora, come dice e ripete spesso Andrea Pontremoli, che è il presidente dell'Associazione MUNER, Motor Vicoli Universito Famiglia Romagna, l'unico modo per risolvere un problema non risolvibile è affidarlo a chi non sa che non c'è soluzione. Tommaso è un giovanissimo e promettente inventore. Sa che il problema della mobilità sostenibile è un problema complesso, ma ha trovato la soluzione. Ha già pensato al suo primo prototipo. È bastato il tempo di un disegno. Un pensare veloce, libro da vincoli, indipendente, sfrontato. E allora il nostro ruolo di educatori, di giovani, di studenti, di figli, di noi stessi, è quello di creare i luoghi dove il pensiero veloce sia educato ed allenato. Luoghi che sono le nostre case, la scuola, l'università. Luoghi dove poter parlare insieme di conoscenza, di connessione, di consapevolezza, di complessità. Luoghi dove poter sviluppare quel pensiero veloce, libero da vincoli, indipendente, sfrontato. Esattamente come il pensiero di Tommaso. Grazie a tutti.